Allora raccontaci questi tuoi primi giorni con la maglia del Perugia, le tue prime impressioni, che effetto ti ha fatto Perugia? Beh, innanzitutto buonasera, è molto contento, molto contento perché avevo tanta voglia di cominciare a lavorare e soprattutto perché ho trovato un gruppo con tanta voglia di, come ho detto, di lavorare e di crescere, quindi questo mi fa piacere e adesso lavorando insieme a loro Sulla partita di oggi, più in generale, su questi ultimi giorni, i primi giorni, anzi, di ritiro da Fieri, cosa ci puoi dire? Guardate qui, guardate Niente, tanto lavoro, ho cominciato a capire più o meno l'idea del gioco che vogliamo avere e non vorrei essere repetitivo però stiamo avendo tanto volume di lavoro, minuti alle gambe e siamo concentrati su queste cose Sei mosso una partita a sinistra e una partita a destra, però hai sempre mostrato soprattutto ottima proprietà di palleggio cioè sei uno che ama impostare l'azione del prodotto Sì, sì, giocare anche centralmente, mi fa piacere, mi piace sia a destra, sinistra o centrale però come ho detto prima, mi piace mettermi a disposizione del gruppo, dei miei compagni e cercare di dare una mano sia poi la posizione da scegliere il ministro, però io mi concentro su questo, su stare a disposizione del gruppo e dare una mano ai miei compagni quando sono in campo Ma conoscete il Cicisano? No, non siamo mai stati insieme, la prima volta, la prima volta che ci conosciamo Però parlate la stessa linea Certo, sì, 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 sì Più o meno, perché lui è in un'altra zona, quindi secondo me lui parla meno spagnolo Un'impressione di questa prima settimana di ritiro che avete fatto? Come ho detto prima, stiamo piano piano trovando le idee di gioco e lavorando su queste cose su quello che ci chiede e ci chiedereà il minister e niente, contento per il lavoro e soprattutto per il gruppo Dei tuoi compagni che ti ha impressionato di più in questi primi giorni? Adesso non ti posso dire uno, dai Però, ti ripeto, sono contento perché ho trovato un gruppo con tanta voglia di lavorare e di crescere e questo per me è importantissimo Un'impressione sull'inster, quanto è importante lavorare e allenarsi con un difensore aperto con Mangella? No, allo stesso, ho trovato una persona con le intensità la serietà, la professionalità e io sono d'accordo con queste cose, quindi mi sono trovato almeno finora molto bene Vedi su un giorno? Uguale, uguale, lo stesso, ripeto la stessa cosa c'è un gruppo anche, poi c'è lo staff, tutto lo staff e tutta la gente che lavora per Perugia, almeno la prima impressione è stata questa Grazie 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 Grazie